Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il generale del artista Cancetto 1, farò l'arcensione di un film dal 1987, Scuola di Mostri. Per impossessarsi di un antico prezioso amuleto, si danno appuntamento in una cittadina degli Stati Uniti tutti i mostri possibili, Dracula, Frankenstein, la mummia, l'uomo, lupo e il mostro della laguna nera, mentre le autorità brancolano nel buio, una squadra di intraprendenti ragazzini sconfigge i mostri. Il mio voto a questo film è 10, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione e la sceneggiatura, è di genere dell'orrore, la durata è 1 ora e 23 minuti, il regista è Fred Decker, la regia è buona, bravo regista, la prima data di uscita negli Stati Uniti è il 14 agosto 1987, l'attore è Andrew Gower, bravo attore, nel film anche Ryan Lambert, Ashley Bank, Tom Nonan, Robbie Kieger, Brent Chalem, Duncan Reager, Michael Faustino, Stephen Macht, Tom Woodruff Jr., Jason Hervey, Mary Ellen Trainor, Leonardo Cimino, Lisa Fuller, John Grease, Stan Shaw, Carl Thibault, Jack William Adam Carl, David Roval, Michael Raid McKay, Mary Halby, Daryl Henderson, Julie Merrill, Bryn Baron, Sonia Cortis, Robert Lesser, Brian Kestner, Denver Matson, Julius Leflor, Daniel Boo Beringer, Diana Lewis, Ernie Livelli, saluto! Samu Brina, Citta, Aliciotola, Mariuccia, Marcolf, Magellan, Ale, Michele Gianluca, Ilaria, Giulia, Alessio Uga, Michi, Robby, Toni, Cante Domenico, Leo Tassoni, Peter Team Festival, Pia De Rock, Corto, Ulluni, Ivan Drago, Daniele, Danielios, Brent Boy, Henry, Ragazza di Henry, il trio Medusa, i suoralli, Michele Tregigliani, Favijay Picchiatore, Kevin, Gigi e Telefine122, MrBikeTV, il canale PNC, Alessandro Bidone, Nico Rota, Fabio, Flavio, iDancingQuints, Marco Fo, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.